Buongiorno, mi chiamo Clara Maveglia e dirigo il Cultural Entrepreneurship Institute a Berlino. Oggi siamo a Roma, al Consiglio Nazionale delle Ricerche, per intervistare il professor Pozzo. Il professor Riccardo Pozzo è il direttore del Dipartimento Scienze Umani e Sociali e Patrimonio Culturale. Benvenuto, professor Pozzo. Buongiorno, professor Pozzo. Buongiorno. Bello che siamo qua, che ce l'abbiamo fatta. Vorrebbe presentarsi personalmente. Per prima cosa, benvenuti al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Siete nell'edificio centrale che è stato fondato nel 1936, inaugurato da Guglielmo Marconi. Siamo in questa stanza. Io sono direttore del Dipartimento Scienze Umane e Sociali e Patrimonio Culturale da quattro anni. È una bella responsabilità, ne parleremo. Però per presentarmi racconto che sono uno storico della filosofia, un filosofo, uno storico. Mi occupo di storia intellettuale, come si dice oggi. Ho studiato a Milano in un ambiente interessante. Appunto parlavo tre lingue molto presto, più il latino e il greco. Quindi ho continuato gli studi in Germania. Prima a Heidelberg, poi a Treviri e a Saarbrücken. E dopo avevo la libera docenza tedesca e sono stato chiamato in quanto professore tedesco, in realtà non più proprio come professore tedesco, all'Università Cattolica di Washington. E ho iniziato a insegnare in inglese German Philosophy, Kant e Hegel. Ha un pubblico di studenti interessanti, bravi, anche lì che dovevano sapere il latino, il greco, il tedesco per laurearsi con me, fare il dottorato con me. E dopo sette anni gli italiani mi hanno preso in Italia, mi hanno chiesto di tornare come professore americano, che ero professore americano. E quindi sono tornato in Italia e finalmente ho fatto il professore in Italia, all'Università di Verona, nella Cattedra di Storia della Filosofia, dove sono stato sette anni. E poi è venuta questa espressione di interesse da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che mi interessava, devo dire, lo conoscevo, ma l'ho conosciuto sempre meglio. E allora sono venuto a Roma nel 2009 a dirigere l'Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee, un istituto molto interessante, con 50 anni di storia, un grande patrimonio di competenze e di ricerche di risultati. E da quattro anni invece sono qui con questo impegno, questa responsabilità sulla ricerca scienze umane e sociali. In questa comunità di ricercatori a CNR siamo 10.000 tra ricercatori e addetti alla ricerca. Non siamo tanto quanto i colleghi delle università, però abbiamo questa funzione di fare da pripista. Troviamo delle aree strategiche e ci facciamo avanti e poi lavoriamo con le università per fare ancora meglio. È una bella responsabilità, un lavoro che mi piace molto. È straordinario, c'è un percorso interculturale, interdisciplinare. C'è stato un evento, una persona determinante per tutto questo, che l'ha ispirata in questa direzione? Beh, l'ispirazione era in famiglia, insomma, sia da parte di papà sia da parte di mamma. Avevamo delle biblioteche in quattro lingue, cinque lingue, sei lingue, insomma, l'ebraico, il latino, il greco, le lingue moderne, tutte. Quindi il bambino, potenza della noia, passa l'estate nelle case di famiglia, legge tutto e io leggevo tutto. Poi avevo un nonno che fu ufficiale di marina, che ebbe la fortuna impareggiabile di essere comandato a Pechino in una legazione straniera tra il 1925 e il 1928 e quindi ebbe anche quell'esperienza oltre ai vari comandi. E quindi il nonno sapeva perfettamente quattro lingue. Io sono cresciuto con un nonno che mi spiegava che dovevo sapere quattro lingue e che la cultura era non solo quella che avevo in casa, ma bisogna andare a vederla nel resto del mondo. È stato molto bello crescere con il nonno. E poi appunto sono andato in Germania dagli amici del nonno, mi ricordo dei personaggi affascinanti, volti pieni di cicatrici, insomma, come potevano essere gli amici del nonno. E anche questo è stato formativo. E appunto a Heidelberg ho conosciuto Hans-Georg Gadamer, che era il coetaneo del nonno. E quindi con Hans-Georg Gadamer ho avuto anche lì una direzione interessante. Poi ho appunto deciso di rimanere in Germania, dove sono stata appunto sette anni, a lavorare dal dottorato e la libera docenza. Cioè, incredibile. E adesso si trova a Roma. Fermiamoci un momento a Roma. Come si vive a Roma? Ci si può abituare a tanta bellezza, a convivere con la storia, con questo pensiero che ci sono queste pietre dove già migliaia di anni fa la gente parlava delle stesse cose di cui parliamo e viviamo noi. Ci si può abituare? Beh, io no. Io non mi abituo perché sono arrivato a Roma. Mia mamma è nata a Roma, veniva a trovare il zio di mamma, però è da sette anni che è abito a Roma. e devo dire, io vado in bicicletta a Roma. Proprio qualunque distanza in bicicletta qualche volta mi perdo apposta per andare in quartieri dove non sono stato, il centro storico più labirintico, più sono contento. Quindi con la bicicletta vedo proprio le strade, mezzo alla strada. A me capita di trovare le monete, perché chi entra in macchina per un movimento del cappotto cadono le monete. Io vedo le monete per terra e le prendo tutte. le biciclette una volta erano diverse, le biciclette appunto c'erano i freni a bacchette che andavano regolati, erano più ricolose. Adesso sono biciclette molto moderne e quindi si riesce a salire e a scendere molto bene, questo aumenta la sicurezza. La città è bellissima, appunto in bicicletta si sentono tutte le pietre, si vedono delle cose che in macchina non si vedono, a piedi non si vedono. La viviamo avanti e indietro e per andare a lavorare devo salire sul ceglio che è ripida e scendere dal ceglio si prendono belle velocità. Quindi anche distanze lunghe come andare in cima al Gianicolo all'Istituto dei Studi Germanici a Villa Scharra che è una gita straordinaria. In bicicletta è certamente molto ripido, però arrivarci dà una certa soddisfazione. Se arriva c'è questo bellissimo giardino entrando dalla porta via San Pancrazio. Insomma è una dimensione, Roma è una città aperta, è una città pulita. Io non mi sono mai lamentato di niente, mi piace tutto, adoro la vita del quartiere, adoro il cibo che mi danno, non ho preoccupazioni, disorganizzazione, quello che ho mi basta. Quindi adoro Roma, certo? È la città che alla fine ho scelto per viverci. Certo. Ma allora mi dica, con tanta responsabilità, tanti viaggi o soggiorni in altri paesi, come si può combinare la famiglia e il lavoro? Come riesce? Beh, significa tornare alla fine settimana e stare fermi immobili. Noi abbiamo un detto, non si va al di là di Porta Metronia, abitiamo lì e non si supera, si resta dentro il quartiere rigorosamente. Quindi si cerca di riposarsi, perché in effetti il resto della settimana può essere molto forte. Nel mio mestiere capita spesso di avere il taxi che ti prende sotto casa alle 4.45 e ti riporta alle 24.15. Questo spesso veramente, ma preferisco così, perché Bruxelles naturalmente è una città bellissima, ci si va, però non posso stare due giorni a Bruxelles. devo andare in giornata per una riunione che può durare due ore, alla quale aggiungo altre riunioni, quindi alla fine sono sei ore di riunione. Però la normalità è andare a fare queste missioni che poi sono per il CNR o per il governo stesso, per il ministero, in quanto rappresentante dell'Italia. e si cerca di fare tutto in un giorno e si torna a casa. Però, certo, conciliare la famiglia con questo, lo puoi immaginare, è una stanchezza alla fine grossa, alla quale si rimedia godendo Roma. A piccoli passi. A piccoli passi. Ci può dire se lei ha pianificato la sua carriera o ha seguito l'intuizione? Come funziona? Beh, diciamo così, io ho fatto abbastanza quello che nessuno si aspettava. Questo come regola, perché la vita accademica in Italia è proprio del ragazzo che va all'università, fa l'assistenta, il primo incarico, il secondo incarico, diventa ordinario, resta lì, diventa direttore, qualunque cosa. Però, alla fine, una persona così sa dove sono gli interruttori della luce, di tutti i corridoi, è sempre stato lì. Ecco, io questo non l'ho fatto. Come ho detto, ho avuto il privilegio di cambiare in carico ogni sette anni. Ho questo numero feniccio, sette volte buono. Ogni sette anni cambiavo e cambiavo perché si sapeva quello che facevo e pian piano mi chiedevano. Io consideravo, non ho scelto, naturalmente ho detto che mi interessava. Quindi è abbastanza raro nelle scienze umane di cambiare così radicalmente. Perché appunto io ho studiato, ho fatto sette anni in Germania fino a libera docenza, sette anni negli Stati Uniti e stavo benissimo negli Stati Uniti. E però mi hanno fatto un'offerta irresistibile, sono tornato all'università, adesso al CNR. Naturalmente il settimo anno sta per scadere, quindi chissà cosa succede. Bene, allora finché è nel Consiglio Nazionale delle Ricerche, ci puoi spiegare che cosa fa il Consiglio Nazionale delle Ricerche? Che cosa si fa? Beh, il Consiglio Nazionale delle Ricerche è un ente pubblico di ricerca. Allora, ci sono le università che conosciamo e che sono medievali. Prima, a 1089, Bologna. E sono studenti e professori universitas, vuol dire la collettività, l'universalità dei dicenti e dei dicenti. Poi ci sono le accademie che invece furono fondate dai principi. Non so, Rodolfo II d'Asburgo a Praga voleva Keplero e aveva Keplero perché era interessato a determinati processi chimici. Federico Cesi, che ha fondato l'Accademia degli Incenni nel 1603, era nipote del Papa. E lui ha anche riunito Galilei e diversi altri perché gli interessava. Però erano scelte del monarca per interessi suoi che poi avrebbero avuto un effetto sul regno. Ma gli enti pubblici di ricerca invece sono una cosa che nasce col positivismo quando appunto l'unità degli scienziati si cementava. Quindi c'erano due movimenti, il movimento dell'Unione Accademica Internazionale e il movimento dell'Associazione Internazionale dei Consigli di Ricerca. I primi a fare il consiglio, un consiglio di ricerca, cioè un ente pubblico di ricerca, sono stati i tedeschi. Perché la Max-Planck-Gesellschaft nasce nel 1911 come Kaiser Wilhelm Gesellschaft ed è guidata da Adolf von Harnack, grande teologo, ideatore della scuola storica. E la cosa bouleversante, diciamo, quella che raggelò tutti, fu che i tedeschi, primi a avere un consiglio di ricerca, vinsero la battaglia di Hupre. La battaglia di Hupre dal 24 aprile 15 al 28 aprile 15 fu una battaglia nella quale i tedeschi usarono il gas urticante. Le armi chimiche. Le armi chimiche erano state inventate da Fritz Haber, un grande chimico a Berlino, che lavorava in uno degli istituti della Kaiser Wilhelm Gesellschaft. Quindi fu uno shock terribile di capire che il governo, l'impero, perché era il secondo impero, che l'impero tedesco, puntando su questo strumento di organizzazione della ricerca, assolutamente a livello fordista, come una fabbrica, tu devi fare questo, riuscì a avere queste armi. E allora la reazione fu immediata. Noi in Italia avevamo un matematico, una splendida persona, Vito Volterra, che all'epoca aveva 45 anni. E lui immediatamente si arruolò nel genio, passò tre anni in uniforme, come capitano e come maggiore, e riorganizzò la ricerca pubblica italiana, partendo dall'ufficio invenzione e brevetti del Ministero della Guerra, con dei risultati naturalmente. E quindi negli anni 20 nasce questo ente pubblico di ricerca, che è il Consiglio Nazionale di Ricerca, dove siete adesso ospiti. L'interesse del Consiglio Nazionale di Ricerca per i nostri argomenti, cioè le scienze umane e sociali, è relativamente recente rispetto alla fondazione, perché appunto Volterra, che fu il primo presidente, iniziò l'attività nel 1923 e si dovette aspettare 40 anni, prima che con una riforma approvata dal Parlamento, il Consiglio Nazionale di Ricerca si occupasse di tutte le scienze. Cosa che facciamo adesso, a 360 gradi. E quindi anche le scienze umane e sociali, il patrimonio culturale, entrarono nelle nostre competenze. E fu anche lì una cosa appassionante. Io dicevo, ho diretto l'Istituto dell'Istituto Intellettuale Europeo. Questo istituto è stato fondato nel 1964 ed è stata la prima biblioteca digitale del mondo, perché siamo stati noi che abbiamo portato le trascrizioni su schede perforate ancora, non su nastri, su schede perforate. Le abbiamo portate al Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico a Pisa, CNUCE, che era l'unico calcolatore che c'era in Italia nel 1964. E portando le trascrizioni elettroniche dei testi, all'epoca non si chiamavano così, abbiamo avuto le prime liste di concordanza e abbiamo cominciato con la terminologia filosofica, l'informatica umanistica, siamo stati i primi. E questo istituto ha 50 anni e più adesso, ha pubblicato 120 libri ed è un caso rarissimo di un progetto di informatica digitale, scusate, di filologia digitale, che ha sopravvissuto tra emigrazioni e 50 anni. E questo abbiamo fatto per le scienze filologiche, per le scienze giuridiche abbiamo fatto delle cose analoghe, sempre applicando un po' di tecnologia, il CNR è stato responsabile per l'ingresso della cibernetica in Italia. Sono stati i nostri ricercatori insieme ai professori universitari, naturalmente, che hanno fatto i laboratori, i centri di calcolo, il calcolo automatico. E poi la grande svolta fu l'alluvione dell'Arno, 4 novembre 1966, tra tre mesi abbiamo il cinquantenario, che significò, il giorno dopo, 3 milioni di artefatti importantissimi a rischio di distruzione completa. E questo fu una grande risposta emotiva, perché insomma vedere il Cristo di Cimabù è rotto, macchiato, era terribile. E lì ci fu un grande sforzo internazionale e nazionale, internazionale che ci offrirono delle competenze che raccogliemo, ma anche nazionale, e fu proprio il Consiglio nazionale delle ricerche a organizzare quello sforzo di ricerca che permise, in giro di pochi anni, di aumentare l'efficacia delle tecnologie, abbassare i costi e rendere possibile il recupero di tutti e tre milioni degli artefatti danneggiati. Fu bellissimo. E questo proprio è una delle grandi risultanze, insomma, una delle grandi imprese del CNR, di aver unito competenze di tutti i tipi, storici, archeologi, archivisti, ingegneri, fisici, chimici, fotografi, tutti, per mantenere questo patrimonio che si sarebbe distrutto. Bene, ci ho parlato della ricerca di quanto sia importante sia per vincere la guerra, o in un primo tempo per vincere la guerra, e poi per conservare una parte del patrimonio, dell'inestimabile patrimonio culturale, storico, artistico italiano. E su questo mi vorrei proprio soffermare, partendo prima dall'influenza che a suo parere ha un tale patrimonio sui cittadini e le cittadine italiane, naturalmente su tutta l'umanità, però prima di tutto su chi cresce in tanta bellezza, guardando il blu di Giotto o il, come diceva lei, il Cristo di Cimabue. A suo parere che influenza ha questo? Beh, è già un passo di un romanzo che forse conoscete di uno scrittore milanese, Emilio De Marchi, il romanzo è Demetrio Pianelli, che comincia con un suicidio in una casa vicino alla chiesa di San Lorenzo. E c'è un passo dove dice che il popolo milanese si muoveva con assoluta indifferenza sotto queste colonne enormi, la statua e la chiesa di Leonardo, con assoluta indifferenza, perché sono sempre state lì e loro le conoscono. Quindi da una parte c'è sicuramente questo essere sempre, essere cinati, il fatto che quel suo monumento sia parte integrante della mia infanzia, della loro infanzia. Quindi l'assoluta indifferenza c'è sicuramente anche a Roma. Però è anche questa enorme benedizione di vivere dentro la bellezza. Noi questo la sentiamo molto. E comunque l'Italia chiaramente ha una responsabilità e la responsabilità è di tutelare, conservare. E poi in secondo luogo, a meno così dice l'articolo 9 della Costituzione, in secondo luogo di valorizzare, cioè di metterla a valore. E allora mi capita spesso di parlare dell'intersezione tra Ministero della Ricerca e Ministero della Cultura, che in effetti nel dipartimento che dirigo è nodale. Noi siamo il Ministero della Ricerca, siamo la punta più avanzata del Ministero della Ricerca sul patrimonio culturale, scienze umane e sociali, però dialoghiamo col Ministero della Cultura perché il Ministero della Cultura ci chiede delle cose che con i suoi funzionari e ricercatori mette a sistema, ma potrebbe mettere a sistema di più. Quindi io dialogo con questi due. E allora, mi capita di spiegarlo spesso, l'Italia è l'unico paese dove il Ministero della Cultura aveva lo 0,4 del prodotto interno loro. È una cifra enorme. Adesso abbiamo lo 0,3, però è sempre grosso. E perché abbiamo questa cifra? Perché abbiamo la responsabilità di tenere vivo il patrimonio. Abbiamo della manutenzione, della conservazione. E questa è una responsabilità grossa perché tanti sono i siti, tanti sono gli edifici. È chiaro, ce l'abbiamo di fronte all'umanità. E infatti la dotazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è notevole. Molto di più, proporzionalmente, che negli altri paesi. Ma perché è così importante preservarlo, conservare il cultural heritage, il patrimonio culturale per le generazioni future? Perché è così importante? Beh, appunto, Marinetti diceva radiamo al suolo Venezia, che tanto non ci interessa. Questo però non è stato fatto. Beh, ci sono diversi modi di conservare, naturalmente. Adesso, insomma, noi abbiamo esteso questo concetto a livello globale. Il governo si è impegnato con l'iniziativa dei caschi blu della cultura. È un discorso che ha fatto il Premier all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre del 2015. Poi ci sono stati diversi incontri. Adesso si è operativi. È il nucleo di tutela dei carabinieri che organizza i caschi blu della cultura. Però l'esempio che facciamo è questo. Adesso noi siamo pronti su Palmira, per dire. Allora, Palmira è in Siria e non è in Italia. Però abbiamo capito che è importante agire su Palmira. Allora, come agiamo su Palmira? Beh, in diversi modi. Primo, pensando a chi è l'usufruttore di Palmira. Allora, lei dirà l'umanità, benissimo. Però non è solo l'umanità. Sono anche i siriani profughi costretti a lasciare Palmira o la Siria in generale dalla guerra e da quello che succede adesso a loro. E naturalmente sappiamo che c'è un flusso grosso di siriani che non stanno più in Siria e che stanno creando una diaspora nel resto del mondo. Allora, la responsabilità dell'Europa rispetto a queste persone è anche di fare in modo che Palmira non venga distrutta, anche se viene distrutta, perché gli atti di guerra ci sono e Palmira è in una zona di conflitti gravi. Allora, noi come ricercatori cosa possiamo fare? Beh, abbiamo dei satelliti che hanno delle immagini di Palmira prima che venisse distrutta. Quindi sulla base di questi satelliti noi archiviamo i dati e siamo pronti a ricostruire la città sulla base di questi dati che abbiamo archiviato oppure su delle campagne di digitalizzazione che si fanno con dei droni mandandoli adesso in maniera anche abbastanza economica sui siti. Loro prendono gli angoli dei vani all'aperto o coperti e riescono a ricostruirlo molto bene. E poi, di questo sono molto orgoglioso, siamo in grado anche di ricostruire i materiali. Abbiamo un istituto a Sesto Fiorentino, l'Istituto per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali dove lavorano dei chimici loro sono specializzati in materiale lapideo e in effetti loro usando la polvere del deserto e dei frammenti del tempio distrutto sono in grado di ricostruire le pietre stesse. Quindi alla fine avremo una ricostruzione del sito che riusciremo a fare che non sarà basata sulle stampe d'epoca come è stato per le città tedesche dopo la Seconda Guerra Mondiale o dopo, non so, penso alla piazza del mercato di Varsavia o di Cracovia che sono le facciate dietro niente usando materiali degli anni cinquanta. No, ma avremo una ricostruzione del sito veramente molto fedele e questa è una responsabilità che l'Europa si prende rispetto al resto del mondo perché l'utilizzo eventuale, finale, perché ancora non c'è, ma insomma è di permettere ai migranti che arrivano in Europa di sapere che la loro identità adesso l'identità culturale è un concetto difficile ma insomma che la loro memoria culturale è preservata e non è stata distrutta. Naturalmente è anche raggelante vedere questi terroristi che vanno a distruggere i monumenti che sono patrimonio dell'umanità o che potrebbero essere passiamo in un'umanità proprio per indispettire, per far vedere, per lasciare una ferita. Sono tutti atti di guerra naturalmente però di nuovo la tecnologia permette di lavorare in questa direzione. Questo è davvero molto importante perché anche recentemente dicevano Martin Roth e Herman Patzinger che fino a poco tempo fa tutti in replica le coppie diciamo o delle opere d'arte non erano molto ben viste ma adesso con la stampa tridimensionale si è visto che e come dice lei in questo modo si possono ricostruire e questo disarma diciamo questi atti di guerra da parte di terroristi perché si dice noi li ricostruiamo e voi li distruggete e noi possiamo ricostruirli. Sì, insomma adesso c'è tutto un codice di tutela del patrimonio culturale nelle zone di guerra che è diventato sempre più preciso e noi italiani ne sappiamo parecchio quindi abbiamo questo nucleo dei carabinieri che protegge o recupera gli oggetti che riguardano il nostro patrimonio ed è molto grande perché c'è tutta la questione del commercio legale e però in questo momento possono essere utilizzati come strumento di accompagnamento delle attività di peacekeeping. Ma si dice che se valorizzato bene il patrimonio culturale può rendere anche proprio da un punto di vista economico, commerciale lei che ne pensa? Beh, allora il ministro Franceschini ha detto il ministero che dirigo che al collegio romano che è stato possibile occupare nacque nel 1975 quando i locali della biblioteca nazionale furono i libri a biblioteca nazionale si trasferirono al Castro Pretorio nell'edificio che conoscete adesso l'edificio era vuoto allora l'onorevole spandolini disse bene allora lo occupiamo e facciamo il ministero dei beni culturali che prima era una direzione generale del ministero della pubblica istruzione e allora quando il ministro Franceschini ha preso l'incarico ha detto io sono il titolare del ministero economico più importante ha detto proprio il ministero economico più importante perché il patrimonio culturale i beni culturali sono una parte importante della vita economica della nazione e in effetti si può dire che l'industria culturale creativa cioè quella che ruota attorno alla cultura da sola faccia il 5% del PIL se si aggiunge il turismo cioè l'industria ricettività andiamo tranquillamente oltre 10% e quindi è una forte risorsa economica e bisogna fare tutto quello che occorre per aumentare la ricettività e la fruizione naturalmente ci sono dei problemi il turismo di massa danneggia e quindi l'indicazione è di pensare l'Italia intera come un museo a cielo aperto quindi non le città d'arte o dei siti in città d'arte o dei musei ma proprio tutta e per questo ci sono diverse iniziative io ne seguo ne seguo alcune ma si può pensare appunto a dei sistemi di informazione sempre più capillare sempre più interessante multilingue che guidi l'usufruttore in diverse circostanze posso fare un esempio si immagini una turista cinese di 40 anni che arriva a San Gimignano lei dice al suo dispositivo che ho 40 anni ho questo tipo di istruzione quindi so leggere tali e tanti caratteri non tutti neanche meno e sono interessata a questo e questo allora la signora va a San Gimignano gira per San Gimignano in un certo momento riceve un messaggio che dice svolta a sinistra lei svolta a sinistra e trova un ufficio postale progettato da Gioponti perché no lei aveva scritto nella nella sua guida che era interessata all'architettura e al razionalismo quindi anche se è a San Gimignano con le torri San Gimignano dice guarda abbiamo anche un ufficio postale che è molto bello e lei lo va a vedere e questo è il museo diffuso il museo all'aria aperta tutta l'Italia dobbiamo arrivare a questo certo che ne dice degli imprenditori e le imprenditrici che contribuiscono a conservare il patrimonio che contribuiscono finanziariamente come qui è il Colosseo il Colosseo è un bel esempio Diego della Valle non ha messo il suo nome quindi però si sa che l'ha fatto altri giustamente vogliono avere il nome è una cosa assolutamente da seguire il ministro Franceschini ha fatto una legge a proposito l'art bonus che dà un gentito notevole quindi è giusto farlo sicuramente non svendiamo l'Italia a questi imprenditori che prendono a cuore la conservazione in questo caso perché il rischio naturalmente è che l'oggetto si danneggi in maniera irreparabile e quindi è giusto qualcuno che lo salvi invece la parte relativa alla valorizzazione è questa normale economia abbiamo appunto insomma abbiamo come sale il turismo blu il turismo di avventura il turismo culturale il turismo culturale da noi è molto importante infatti abbiamo per esempio la borsa del turismo archeologico dove gli appassionati di archeologia vengono a sapere che c'è questa e questa novità tale sito tale tecnologia insomma è una cosa grossa e noi come Consiglio Nazionale di Ricerche facciamo ricerca di base facciamo ricerca applicata e lavoriamo con le imprese quindi abbiamo delle belle imprese insomma ecco adesso non mi vorrei annoiare ma insomma si parla di innovazione tecnologica innovazione sociale innovazione culturale allora innovazione tecnologica è la scoperta che dà un risultato e il risultato viene applicato e abbiamo quindi la possibilità di fare utilizzare questa scoperta all'intera società la società deve decidere se l'innovazione funziona se costa giusto e se ci sono dei problemi di carattere etico o politico per l'implementazione adesso non faccio gli esempi l'innovazione culturale è una bella cosa chissà cos'è l'innovazione culturale oggi è trovare degli indicatori che ci permettano di avere di valutare le tracce lasciate da chi ha delle esperienze culturali e come si fa a valutare queste tracce beh si valuta appunto usando gli indicatori della co-creazione cioè io lascio una traccia se scarico un film da Netflix o se compro se compro un biglietto al cinema no perché non sanno chi sono ma se lo prendo da Netflix e si lo sanno chi sono e adesso il sogno che abbiamo che però stiamo facendo si immagini il museo archeologico nazionale di Napoli bellissimo era il palazzo che Carlo III di Borbuno e poi re di Spagna fece costruire per l'università di Napoli in realtà il palazzo pronto si scoprì Ercolano e Pompei e si misero ancora nel 700 nel 760 tutte le statue di Ercolano e Pompei poi Farnese entrò in una famiglia reale e quindi la collezione Farnese arrivò a Napoli il toro Farnese ecco il buffo è che in questo in questo museo abbiamo Pompei Ercolano e le terme di Caracalla perché la collezione Farnese fu il Papa e i vari che si appropriarono delle statue trovate che una volta era in Ancaracalla e allora l'innovazione culturale è questa io entro al museo archeologico nazionale prendo il mio telefonino mi danno un supporto di cartone che costa pochissimo io guardo il mio telefonino e mentre vedo il toro Farnese a Napoli vedo la stanza nelle terme di Caracalla dove era il toro Farnese ricostruita a 3D con gli arredi che riusciamo a documentare viceversa se sono a Caracalla vedo la stanza vuota metto gli occhiali e vedo il toro Farnese e questo vale anche per le statue e i mosaici di Pompei di Ercolano abbiamo questo museo che ha lo statuario di 2 siti 3 siti archeologici importantissimi allora l'innovazione culturale viene dal fatto che una volta che io metto questi occhiali la macchina calcola quanti minuti sto ecco i minuti che io perdo a guardare quell'angolo delle sterme di Caracalla con il toro Farnese è la co-creazione è la traccia è la traccia è la traccia che lascio è la traccia che lascio dobbiamo andare avanti perché sennò troppe tracce la politica delle migrazioni è uno dei suoi campi di interesse attuali e sta mettendo un po' in crisi l'Europa ce ne può parlare brevemente perché stiamo la politica delle migrazioni è l'oggetto più importante della ricerca per i prossimi 50 anni noi lo vediamo anche qua così come le piogge acide crearono una grande reazione emotiva negli anni 70 e 80 a quale eseguì un enorme sforzo di ricerca di tutti una riconversione industriale chiusura delle miniere chiusura dell'industria siderurgica specialmente un cambiamento nella terza popolazione che nel giro di 20 anni 30 anni hanno imparato a pensare verde think green migrazioni è una cosa analoga adesso abbiamo l'orrore dei morti in mare l'orrore di questi poveri che devono correre attraverso il campo quindi c'è una reazione emotiva noi stiamo organizzando lo sforzo della ricerca lo sforzo della ricerca e tra un po' avremo la conversione industriale ossia i migranti lavoreranno in Europa in modo da occupare delle fasce di territorio pensiamo ai villaggi degli appennini per dire ma anche delle mansioni dove è giusto che entri e poi avremo un cambiamento di mentalità da smetteremo di essere razzisti più prima che dopo e quindi la politica dei migranti prima o poi arriverà a superare l'emergenza avremo anche in Europa una società multiculturale e dobbiamo arrivarci ma dobbiamo arrivarci con la verità e cioè raccogliendo dei dati validati dei dati interoperabili dei dati che servono e per questo appunto è un impegno che riguarda tutti è meraviglioso non è ancora finita però abbiamo capito che la strada è questa sì sì come ne parla lei sembra veramente un compito meraviglioso una prospettiva importante beh è una cosa che quando adesso occuparsi dei migranti è estremamente motivante ci si alza al mattino e si sa di stare facendo qualcosa di importante questo non è solo per me per tutti i ricercatori che lavorano sui progetti che hanno fatto partire e l'Italia in questo caso ha un ruolo di capofila perché così come siamo capofila sul patrimonio culturale siamo i leader della Joint Program di National Cultural Heritage adesso stiamo preparando l'iniziativa congiunta di ricerca migrazioni e la stiamo guidando noi perché tocca a noi abbiamo i numeri e abbiamo le ragioni per farlo ci ha raccontato davvero molte cose interessanti grazie adesso abbiamo la conclusione e vorrevo chiederle visto che lei è più vicino vive più vicino sia fisicamente localmente alla bellezza che con tutte le ricerche tutti i campi in cui lavori al mistero della vita ci può dire che cosa conta davvero nella vita a suo parere ma io ricordo una un necrologio che scrisse Maria Bellonci era un amante della bellezza ecco io penso che se potessero scriverlo di me sarei contento cioè valutare la bellezza come proprio aria come spinta come dimensione e abitare a Roma permette di farlo ma non solo perché si cammina per strada perché è una città ricca in questo e come lo è anche l'Italia io sono contento di abitare in Italia beh grazie mille grazie mille del suo tempo e buon lavoro grazie